buongiorno a tutti sono mickey31003100 e benvenuti alla nuova live con pinball arcade oggi giocheremo con pin bot iscrivetevi mettete mi piace mettete il qualecino take like take all earth follow benvenuti a 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